Allora, facciamo un confronto tra il suono del pick up magnetico e il peso. Allora, facciamo un confronto tra il suono del pick up magnetico e il peso. Poi vi dico la mia opinione, poi faccio sentire anche il suono senza nessuna applicazione. Allora, facciamo un confronto tra il suono del pick up magnetico e il peso. Allora, facciamo un confronto tra il suono del giro. Allora, facciamo un confronto tra il suono del giro. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione